Qui c'è questo quadro, oh merda, oh merda, è cambiato, no via di qui, non c'è più nessuno ragazzi Ciao a tutti ragazzi, qua Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video e siamo ritornati su Layers of Fear Ho visto che il primo episodio vi è piaciuto e di conseguenza ho deciso insomma di portarvi adesso anche il secondo Lasciate ovviamente un like per nuovi episodi, allora il primo è stato abbastanza inquietante Non tanto spaventoso però più che altro inquietante e qui ragazzi adesso non so dove andremo Eravamo arrivati qui, comunque andiamo avanti verso questa porta, allora aprila, oh merda, vediamo un po' Siamo calmi, intanto io sento tipo il vento in sottofondo, c'è qualcosa, ok le porte si chiudono sempre sole Questa cosa non mi piace mai, vediamo un po' cosa c'è qui ragazzi, allora, oh merda in questa finestra Si vedono tipo degli alberi e non mi piace, perché di solito non si vedeva nulla Allora qui c'è qualcosa da leggere, vediamo un po', no ragazzi, ma forse sì, possiamo aprire qualche cassetto Eh, vabbè cosa c'è dentro i cassetti, nulla forse di importante Ok, quello è qualcosa Non mancare, hanno il piacere di invitarti a celebrare il loro matrimonio sabato 9 giugno Cappella di San Luke ore 14 Va bene, non dà però l'anno, non so perché ma non dice l'anno Eh, allora, qui questo foglio si può vedere oppure no? No ragazzi, non c'è modo proprio di vederlo Qui abbiamo una, eh, insomma, una cassa, c'è un codice Eh, che codice ragazzi? Non ho un codice, vabbè, proviamo ad aprirla così ma Non ho, non ho nessun codice, cioè non ho visto altro prima Quindi, boh, non saprei Potrei fare ragazzi la pazzia di scrivere praticamente i numeri che dà questo biglietto Quindi il 9, l'1 e il 4 Ma non credo proprio che possa funzionare Però vediamo un po', allora, il 9 Eccolo qui, eh, l'1 Eccolo qui, è il 4 Ce l'abbiamo già Niente, ma non si apre Cosa c'è dentro questo armadio? Oh merda, stiamo attenti Stiamo attenti ragazzi Ok, niente, libri Niente di importante a quanto pare Niente ragazzi, sto cercando veramente ovunque Ma non vedo nulla Qui, qui possiamo accendere le candele Però, boh, non c'è Uh, attenzione Cos'è? Ok, allora, sono comparsi dei numeri ragazzi nei quadri Adesso ci siamo Va bene Cioè, dovevamo accendere le candele per trovare la combinazione Va bene, io cercavo tre bigliettini vari Ok, allora, i numeri sono 8, 5 e 4 Va benissimo Speriamo che siano giusti Allora, 8 Perfetto 5 Ok Perfetto Possiamo aprire la cassa Vai, aprila Ok ragazzi, cosa c'è? Cosa c'è? Cioè, praticamente c'è un anello E ci ha dato una piccola Una piccola storia, direi Però non c'è la chiave che mi serviva Quindi Oh ragazzi L'anello comunque non possiamo prenderlo Possiamo solo lasciarlo lì C'è qualcos'altro Ho paura un po' a girarmi perché Ok, è comparso una porta Ecco qui È comparso una porta Quella è ancora chiusa? Penso proprio di sì Vediamo se è vero Sì ragazzi, niente Quella è chiusa quindi Io cercavo la chiave inesistente Apri questa Ok, con calma C'è qualcuno? No, non c'è nessuno ragazzi Oh merda No, quella sedia si muove sola Non va bene Non va bene per niente ragazzi Vabbè, entriamo Ok, la porta si è chiusa Controlliamo Qualcuno No, ok Per il momento non c'è nessuno Questo è un cassetto Apriamolo Ok, c'è qualcosa magari di interessante Hai ficcato il naso nel mio laboratorio Ancora Per l'ultima volta Non ti è permesso entrarci Anche se la porta è aperta Te lo proibisco La prossima volta Dovrei cercarti un nuovo lavoro Ok, probabilmente si stava riferendo All'abbadante Che prima gli aveva anche aggiustato le chiavi Nello scorso episodio Insomma, avevamo letto Un bigliettino del genere C'è qualcos'altro qui dentro No ragazzi Apri quest'altra parte Niente, sempre dei pennelli Va benissimo Quindi alla fine Quello lì ragazzi Era il laboratorio Quello in cui c'era la tela Nello scorso episodio Qui c'è qualcosa da fare Niente Vabbè, andiamo in questa porta Cazzo, so già che morirò Vediamo un po' con calma C'è qualcosa? No ragazzi Per il momento Uh, guardate un po' Cosa c'è appeso lì Oh merda Stiamo attenti Stiamo calmi La porta si Ecco, subito Cioè la porti immediatamente ragazzi Non hai scelta Neanche il tempo magari di pensare Di tornare indietro Niente, fottuto così Ti chiudono la porta Allora Vediamo se c'è qualcosa qui Cazzo Ho paura di andare avanti Però adesso mi sa che si farà Un po' complicata qui Allora C'è un camino Quella testa non mi piace per niente Eh, vediamo un po' Andiamo avanti Porte non ce ne sono Questa volta Qui qualcosa si apre Oh merda Che cazzo è? Che cazzo è? Si è rotto il pavimento Ragazzi dove si No, bruttissimo Tutto al buio Datemi una luce Datemi una fottuta lampadina Qualcosa Ragazzi è bruttissimo Allora È tutto buio Quindi non so Un po' merda Quel quadro Perché c'è quel quadro Così grande Poi Eh ragazzi Io vado a caso Perché sinceramente Ci vedo pure poco Che c'è un interruttore Accendilo No, non mi dire che siamo giù No, ma non penso Oh merda Oh merda Che cazzo è? Ragazzi Cosa devo fare? Il quadro Queste sono tipo delle visioni Ho paura a girarmi Ho paura a girarmi Oh merda C'è qualcosa No ragazzi Occhio non c'è No, ho paura a girarmi adesso Perché cazzo Cioè il quadro si è avvicinato da solo Vabbè saliamo Vaffanculo questo posto Eh saliamo qui C'è qualcosa di interessante Ok c'è una piccola luce Pensavo fosse il seminterrato di prima Che avevamo visto all'inizio Ma no Non era quello O forse sì Ma è cambiato Eh Attiviamo questa leva Ok Cos'è? Una porta Va benissimo Porta intanto segrete No, non mi dire Siamo dove eravamo prima Sì ragazzi E questa volta c'è il quadro lì Prima non l'avevo notato Oh merda Eh niente Vabbè c'è sempre quella testa Apri la porta È chiusa? No ok vai Ce l'abbiamo Siamo riusciti ad aprirla Corridoio Pieno di quadri Andiamo in fondo ragazzi Senza paura Senza paura Oh merda Oh merda Andiamo calmi Che cazzo è Vai vai Andiamo avanti Andiamo avanti Apri la porta Ok c'è qualcos'altro qui C'è qualcos'altro Siamo in una stanza Un po' diversa Rispetto le altre Com'è che scopriremo qualcosa O forse moriremo di paura Oh merda C'è qualcosa che cammina Sento qualcosa ragazzi Giriamoci Cazzo è un topo? Dov'è? Dov'è? Non lo vedo Sentivo un topo Ma non l'ho visto Qui c'è questo quadro Oh merda Oh merda È cambiato No via di qui Non c'è più nessuno ragazzi Cazzo girati No non dirmi Cos'è? Oh merda No No non ci sto Non ci sto Non ci sto Che cazzo c'è nel quadro adesso ragazzi? Niente C'è una mano Una fottuta mano nel quadro Niente Si è distorto tipo tutto Qui cos'è? C'era una porta? Forse sì Ma adesso non c'è più Non avevo idea Andiamo via Andiamo via da questo posto Vediamo se la porta adesso funziona Ma non credo Invece sì Si funziona Con calma Ok Sempre nuove stanze La casa proprio infinita Una cosa incredibile Ok Niente Io vado avanti Vado subito avanti Verso le altre porte Ok Cos'è? Ok Si sente piangere Si sente piangere ragazzi Oh merda Chi è che piange Lì c'è un altro quadro Allora Abbiamo una porta In fondo non voglio andarci Per aprire la porta Non credo che sia una buona cosa Però ragazzi andiamo avanti Vai Niente è chiusa vai Fortunatamente cazzo Allora andiamo avanti Vabbè fortunatamente no Perché Devo continuare Cazzo qui ci sono i quadri I quadri non li devo guardare Allora vediamo se c'è qualcuno No per il momento No ragazzi Oh cazzo Lì c'è una porta Va bene E qui? Niente due porte Andiamo a destra Andiamo a destra Spero che sia la via giusta Niente è chiusa Giriamoci con calma Ok non c'è nessuno Andiamo ragazzi Nell'unica porta Che spero sia aperta Perché altrimenti Siamo fottuti Occhia aperta Dov'è Dov'è questa qui Che piange Cos'è ragazzi Si fa tutto più buio Ok la porta si è chiusa E c'è qualche interruttore No Ovviamente interruttori Non ce ne sono Non ho lampadine Candele Non ho nulla Sono qui praticamente Fottuto Vai 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 in fondo Vai in fondo Altra porta ragazzi Ok cos'è La cucina Questa è la cucina di prima Sì ragazzi Questa è la cucina dell'inizio Solo che la bottiglia di vino Era rotta qui E non c'era tutto sto casino Insomma C'era soltanto una bottiglia rotta E nient'altro Apriamo la porta Del ripostio Cos'è Cos'è che si è mosso Cos'è che si muove Sono cadute delle pentole Lì ci sono le mele Che rotolano Oh merda Oh merda Che cazzo Oh Siamo calmi Siamo calmi Siamo calmi Via via Usciamo da qui Apri questa porta E niente è chiusa ragazzi Siamo fottuti Siamo fottuti Apri la Niente è chiusa Devo trovare la chiave Dov'è la chiave Per la porta Io vorrei sfondarla Comunque si muoveva C'è qualcuno Allora lì dentro Niente cerchiamo Cerchiamo una fottuta chiave Allora Qui non c'è nulla Cucchiai Qui sotto Non si può aprire nulla Boh Vabbè Niente Che cazzo è Uh un coltello Oh merda Chi c'è qui dietro Ragazzi Chi c'è qui dietro Ok c'è soltanto Quella parte illuminata Andiamo verso la luce Non stiamo nel buio Oh merda È tutto buio adesso Ragazzi Che cazzo devo fare Non lo so Non lo so Si è riempito Qui Che cazzo sta uscendo Cose verdi Oh merda Dai Dov'è la luce Ragazzi Niente andiamo in questa porta Che è illuminata È chiusa Oh merda Oh merda Dove andiamo Gli interruttori Non ci sono Perché hanno tolto la luce Ragazzi andiamo verso Quella porta al buio Io non so che cazzo fare Ah c'è qualcosa Qui da guardare Ok praticamente Questo dovrebbe essere Un pezzo di pelle Si Eh va bene Possiamo toglierlo Apriti porta Adesso dobbiamo scappare Ti puoi aprire Occhio Perfetto 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 Finalmente ci muoviamo Apri la porta Oh merda Entriamo Uh siamo di nuovo Nella stanza principale Ok ragazzi Nella stanza della tela C'è sempre C'è sempre lo stesso disegno Però Mancano Svariate cose Comunque Vediamo se queste cose Sono aperte No Sempre chiuse Ci manca sempre la chiave Che qui c'è qualcosa Cos'è questo Respiri profondi Ricorda Sei un professionista Sono solo le prime pennellate Poi avrei superato il peggio Che c'è di tanto difficile Va bene Quindi alla fine Noi eravamo Dei pittori Insomma Poi non so ragazzi Cosa sia successo Però forse l'alcol C'entra qualcosa Ah possiamo dipingere Ok Forse possiamo Possiamo fare qualcosa Oppure no Si sta creando Un disegno ragazzi Ok Sono degli animali Comunque ragazzi Io direi che possiamo Fermarci qui Per questo secondo episodio Devo dire che questo È stato un po' più spaventoso Sono successe varie cose Insomma il buio Poi cazzo È bruttissimo Qui nel gioco Non si vede praticamente nulla Quando è buio Comunque sia Io spero che il video Vi sia piaciuto Qui da X Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!